Novità, anzi una mezza rivoluzione. Con il nuovo decreto del governo, la scuola rivede profondamente le sue regole su isolamenti e quarantene. Nelle materne, fino a quattro contagi in classe, si resta a scuola, al quinto tutti a casa. Alle elementari, con più di cinque casi, restano in classe vaccinati e guariti, mentre alle medie e alle superiori gli immunizzati restano sempre a scuola. E per verificare se si è positivi, ora va bene anche un test fai-da-te, fatto a casa. E i vicentini sono sostanzialmente d'accordo sulla linea seguita dal governo. Sì, sono molto d'accordo. Se sono in regola con le vaccinazioni, sì, meglio così. Se sono arrivati ad avere un sacco di classi in quarantena. Ma ce ne sono ancora un sacco di classi in quarantena, è quello il problema. Su poco di sì, sì. Semplificazione è sempre meno. Hanno accorciato i giorni? Sì, sì, era ora. All'estero fanno anche di più. Cioè in che senso? Ho sentito che in Danimarca addirittura non c'è più limite, non c'è niente, per cui la Danimarca non pare che sia un paese incivile, per cui probabilmente è giusto così. Però anche nelle scuole non bisogna abbassare la guardia del giorno? Certamente no, dappertutto, non solo nelle scuole. Penso di sì, credo di sì. È importante che i ragazzi vadano a scuola. Quindi privilegiare la presenza in classe è la cosa giusta? Secondo me sì. Con attenzione i bambini piccoli, quelli che non possono vaccinarsi. Secondo me bisognerebbe che le mamme vaccinassero i bambini dai cinque anni in su. Ecco, quello importante. Sì, sì, dai. Speriamo vada meglio. Certo. E anche di più dovrebbero semplificarle. Cioè in che senso? Facilitare ancora di più le famiglie. Quindi andare a scuola è importante. Sì, perché non si può avvisare alla sera alle undici e mezzanotte che poi la mattina dopo i bambini non possono andare, i genitori come fanno? Devono trovare qualcuno. Quello è un problema. Io sono un'insegnante, quindi ho visto. Pensa sia una cosa positiva? Guardi, è talmente complicato dare dei giudizi che sinceramente non lo so. Certo che adesso era veramente difficile con le varie opzioni, i tamponi di qua, certificati di là. È veramente molto complesso. E sulla critica che discrimina tra vaccinati e non vaccinati? Eh, quello è un discorso delicatissimo sul quale preferisco non esprimermi.